Magari parti con un pezzo di sondaggio? Te ne faccio vedere una, guarda, te ne faccio vedere una. Arrivo subito, ecco qua, così che è un tema che mi interessa. Quale frase ci viene detta più frequentemente alla prima telefonata, al primo incontro, con un potenziale cliente italiano straniero. E la strana maggioranza ha votato la seconda posizione, che fa dire che sì, c'è attenzione, il mondo ci guarda, guarda come operiamo sui social, ma vuole delle conferme, vuole dei approfondimenti. Quindi diciamo che ci cercano, cercano informazioni su noi, ma bisogna fare un altro pezzo. Marco, come puoi approfondire? Vado ad approfondire. Adesso col mio intervento andiamo a vedere come è cambiato la modalità di comunicare con i buyers, proprio anche in base a quanto abbiamo visto da questo primo sondaggio. Io sono Marco Piva e quello che volevo trattare in questo breve intervento è proprio come è cambiato la modalità di acquisto. Ora, capita sempre più spesso che il buyer va a cercare con chi effettuare degli acquisti, con chi collaborare, che cosa gli può risolvere il problema online. Poi una volta fatto questo va a contattare il fornitore. Quindi il fornitore in realtà si trova ad avere il primo contatto con il potenziale cliente, con il possibile distributore, quando ormai è già stata fatta buona parte della scelta. Il contatto non viene per avere una proposta di fornitura, ma viene fatto per confermare che tu sei il fornitore giusto per quella situazione. A me è capitato già più volte di andare a entrare in una serie di comunicazioni, di conversazioni per forniture scoprendo che in realtà il cliente aveva già scelto me, voleva una conferma che fosse quello giusto. Quindi quello che diceva prima Giovanni, il buyer sa già qualcosa di me, voleva delle conferme, è assolutamente vero. Quindi pre-internet possiamo dire che il buyer era moderatamente informato, a volte si faceva informare anche per quello che non sapeva dal fornitore sul prodotto, su quello che poteva fare, su come poteva essere realizzato. Mentre invece adesso il buyer è ben più informato e arriva ad avere queste informazioni grazie a internet. Il buyer journey, cioè il percorso attraverso cui si effettuò la vendita, era abbastanza lineare. Faccio sapere al cliente che ho qualche cosa, faccio considerare che sono il fornitore giusto, lascio la scelta, compra l'azione e poi la fidelizzazione. Adesso è molto più fluido, tutto questo nasce da una ricerca che il buyer ha fatto per i fatti suoi, spesso tramite Google. La comunicazione qui di prima io la considero fornitore centrica, quella che veniva fino a qualche anno fa, fino al pre-internet, mentre adesso è buyer centrica. Non so se si trova da molte parti questo tipo di concetto, però io la vedo cambiata in questa maniera. Quindi oggi noi dobbiamo convincere, far sapere al buyer che esistiamo e portare che sia lui a scegliere di voler interagire con noi ed è una comunicazione che spesso ha dei buoni risultati e che molti di noi come export manager stanno privilegiando. Quindi piaccia o no, i buyer sono sempre più indipendenti nella ricerca e nella selezione dei loro fornitori. Questo avviene tramite le nuove tecnologie, in particolare grazie a internet e a tutto quello che mi possiede. Che cosa vanno quindi a cercare i buyer nelle loro ricerche? Quando vanno su Google, su questo mitico strumento di ricerca di tutte le formazioni possibili e reperibili oggi online, devono capire se tu sei il fornitore giusto per loro e visto che ci sono su alcuni prodotti miriadi di fornitori, devono capire in cosa tu ti differenzi dagli altri. Devono sapere che non ti limiterai a vendere e poi parisci, ma devono sapere che sarai esistito anche dopo la vendita. Devono sapere che non gli farai venire il mal di testa ogni volta che ti chiederanno qualcosa, ma che darai loro semplicità. Devono sapere che sei affidabile, ma possibilmente non vogliono sentirlo dire da te, no? Come si diceva una volta il salumiere che dice sempre che il suo salame è buono, ma vogliono saperlo perché riesce a dimostrarlo, quindi attraverso recensioni, attraverso premi, attraverso persone che spendono il loro nome per dire che sei valido e affidabile. Devono sapere che ha delle condizioni economiche che sono sostenibili e gestibili, quindi diano loro dei margini, perché se il buyer non ha un vantaggio, l'istitutore non ha un vantaggio, probabilmente non si rivolgerà a te. Devono sapere che hanno supporto in tutte le fasi della venta, il che prevede anche magari supporto sul fronte logistico, contrattuale, distributivo, marketing o quant'altro. Devono sapere che parlerai, e questo tema è un pezzo che di quanto dirò dopo, devi parlerai in linea con le sue abitudini come buyer, come distributore, quindi se lui è abituato a comunicare con un certo social network, con il suo abituato a parlare con Whatsapp, con WeChat, con qualcos'altro, devono sapere che se ti cerca e vuole avere informazioni con te tramite quel canale, probabilmente potrà averle. Deve sapere che anche i tempi di risposta, quelli che passano tra quando lui ti fa una domanda e tu gli rispondi, siano in linea con quelli della concorrenza, che ammaglia continuamente i nostri possibili importatori, distributori, facendo di offerte mirabolanti e che noi dobbiamo riuscire a tenere il passo, quindi essere in grado di essere proattivi rispetto alla concorrenza. Quali quindi sono gli elementi per essere la scelta giusta? Dobbiamo dare le informazioni su chi siamo via web, perché di solito quando noi entriamo in contatto con il nostro distributore o potenziale importatore, lui ha già visto chi siamo dal web, quindi se il web dà informazioni chiare e significative, potremmo avere la possibilità di avere una buona chance di diventare distributore. Se non capisci chi siamo dal web, forse abbiamo già perso una buona chance e non arriviamo neanche alla fase 2. Dobbiamo raccontare chi siamo, quello che si chiama storytelling, dobbiamo possibilmente dargli dei casi studio. Dobbiamo fare una comunicazione costante, non possiamo comunicargli una volta ogni sei mesi. Un modo per tenere la comunicazione è la newsletter, che poi se vogliamo è anche quello che ci danno molti dei nostri supermercati quando andiamo da loro, ci danno una carta, ci mandano le riviste, ci danno una rivista in fondo alla cassa e lì ci tengono anche loro, ci caldeggiano con informazioni su chi sono e perché andare a cliccare da loro. Dobbiamo dargli delle risposte sul come fare che, come fare cosa, le domande fatte più di frequente. Dobbiamo eventualmente fargli dei questionari per sapere cosa ne pensano o mostrargli perché siamo particolarmente validi con quel prodotto, quindi riconoscimenti, premi che abbiamo ottenuto in quell'ambito. Mettiamo nel caso del vino, premi, calici d'oro, riconoscimenti internazionali, sommeglie che hanno valutato bene i nostri prodotti. Dobbiamo possibilmente dare dei video, se ci sono, delle recensioni, delle istruzioni su quanto facciamo. Loro come comunicano i buyers? Allora, sempre più, e soprattutto quando andiamo nei mercati asiatici, ce ne accorgiamo, ma anche negli Stati Uniti, sempre più comunico via smartphone, quindi tutto quanto noi facevamo da un pc sulla scrivania, spesso viene trasformato in comunicazioni che avvengono velocemente tramite smartphone. Io ho fatto delle comunicazioni solo tramite delle forniture tramite smartphone, è possibile, capita sempre più che i giovani, soprattutto i buyer giovani, usino quasi solo questo strumento, quindi noi dobbiamo essere in grado di intercettare e soddisfare le richieste che ci arrivano per lo più tramite smartphone e le app che ci sono su smartphone. Poi ovviamente ci sono le mail, ci sono i messaggi, i whatsapp, i chat, ci sono i social network, quindi a tutti i linkedin, ci sono i marketplace, ci ha parlato prima Oxana su questo, altri social network, quindi Instagram o quant'altro, il telefono ovviamente è sempre un strumento valido per tenere comunicazioni, ma diventa un po' dietro nella preferenza dei buyer per comunicare, si fanno intere forniture parlando una o due volte al telefono e ci sono ovviamente anche gli incontri diretti, anche questi sono molto sporadici, spesso si fanno quando c'è da stringere la mano a fronte di qualche cosa già avviato, di una distribuzione già decisa e serve a siglare un accordo stabilito in buona parte via smartphone o email. Quindi come facciamo a acquisire e mantenere soprattutto che la parte che a me interessa di più, mantenere i clienti esteri, perché secondo me acquisire un cliente e poi non tenerlo è uno dispendio enorme di energie che ha poche, a gambe corte, è tanto il costo per portare sia a casa un cliente che occorre poi tenerselo, quindi ci vuole molta, agire molto sulla parte di follow up e di mantenimento dei clienti, quindi con un customer service adeguato. Questo può essere fatto con una preparazione sulla tua immagine tendale, devi proprio creare una tua immagine autorevole adeguata, capita a volte di vedere aziende che si presentano in un modo che non ci soddisfa, non ci dà l'idea di autorezza, non ci dà l'idea di dove provengono i prodotti, non ci dà l'idea se i prodotti si erano fatti in una maniera soddisfacente dal punto di vista igienico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista produttivo, noi dobbiamo fugare il dubbio su quello che facciamo, dobbiamo dare un'idea adeguata al nostro brand, perché il nostro brand è anche quello che ci permette di poi vendere i prodotti sui mercati. Dobbiamo mostrare ai tuoi poteri di ringraziare i clienti che cosa puoi fare per loro e il loro business, quindi dobbiamo invitarli magari a degli incontri, invitarli virtualmente, invitarli con dei webinar, invitarli con delle presentazioni, invitarli per gli incontri one to one, dobbiamo fargli sapere che ci siamo. Dobbiamo informarli, scaldare il cuore, io prima dicevo storytelling, quindi dobbiamo fare in modo che il cliente sappia che noi ci siamo ma che non ci limitiamo a parole, ci mettiamo la faccia su quello che diciamo, ne va del nostro prestigio e noi ci teniamo che quello che facciamo sia creduto, sia verificato, sia autorevole, sia efficace e sia facilmente verificabile da parte del buyer, che quindi possa quindi prendere fiducia in noi. Dobbiamo comunicare usando gli strumenti di comunicazione che vanno di moda adesso, non possiamo usare quelli che usavano negli anni Ottanta, quindi dobbiamo usare LinkedIn per chi usa LinkedIn come strumento e sempre più persone nel campo business usano LinkedIn. Dobbiamo usare WhatsApp per, buon e male, quasi tutti i contatti che ci sono nel mondo occidentale, dobbiamo usare WeChat sul mondo orientale, dobbiamo usare per chi lo usa, Facebook, Instagram, per chi magari ha dei prodotti che sono più di design, di marketing, di immagini, no? Quindi ognuno avrà il suo canale. Dobbiamo incontrare i nostri buyer sia offline che online, perché incontrare i buyer solo online può essere limitante, perché invece fare solo incontri diretti può minare la possibilità di fare incontri che ci vengono richiesti tramite gli strumenti online. Dobbiamo fare una unione tra online e offline e quindi andare a unire le competenze tradizionali e digitali, cosa che abbiamo sostenuto anche in qualche intervento passato. Dobbiamo instaurare, incontrare e instaurare relazioni con i nostri potenziali contatti, quindi che siano questi clienti o prospect, quindi potenziali clienti, dobbiamo gestire il follow up, quello che dicevo prima, fidelizzare. Se andiamo nei nostri grandi centri commerciali, che siano Alessia Lunga, che siano alcune catene di moda, di abbigliamento, sempre ci vengono richiesti i dati per poterci poi mandare informazioni, novità, informazioni per poter tenere questo cordone umbilicale con i nostri fornitori, farci rimanere clienti affezionati. Noi dobbiamo fare un po' anche questo. È uno sforzo, riconosco che è uno sforzo, però ci dà buoni frutti, perché il cliente rimane con noi. Teniamo presente che oggi, più che in passato, i clienti B2B, soprattutto io parlo, sono tempestati di richieste di fornitura da parte dei nostri concorrenti. Quindi saranno ingolosite da molte alternative alla nostra. Sta a noi cercare di far capire che non vale la pena lasciare noi per qualcun altro, ma che vale la pena rimanere con noi. Quindi, per essere un cliente, dobbiamo poi mantenerlo con noi. Non è finito tutto, una volta che prendiamo il cliente. Occorre poi mantenerlo, occorre guadagnarci la sua fiducia. Dobbiamo scrivere anche in un modo che sia coerente con il nostro cliente. Dobbiamo parlargli, se lo incontriamo in una fiera, ricordargli chi siamo, quando ci siamo visti, cosa ci siamo detti, qual era la possibilità che abbiamo ipotizzato di lavoro assieme, che cosa era l'ipotesi di fornitura, come abbiamo pensato di lavorare passo passo per avviare la nostra distribuzione. Quindi dobbiamo scaldare i cuori, parlare di chi siamo, ricordare chi siamo, perché alcune aziende, finita la fiera, mandano un'email dicendo questo è il catalogo, questo è l'istino. E l'azienda non neanche si ricorda di averci visto, quindi dobbiamo ricordargli chi siamo. Non basta mandare una mail generica a un buyer che ha visto 50 persone, 100 persone durante una fiera, sperando che si ricordi di noi. Non basta, dobbiamo fare lo sforzo per ricordargli. Questo è tutto sul tema comunicazione, come è cambiata, come è evoluta, come si è adeguata ai tempi, come l'export manager abbia dovuto trasformare le sue competenze e integrare le sue conoscenze, unendo quello che c'è sempre stato, il mondo tradizionale, con quello che è nato recentemente, che è il mondo digitale. Sono a disposizione per le domande. una volta che chiudiamo questa fase, vi ringrazio tutti e finiamo di vedere il sondaggio e passiamo alla fase successiva. Grazie.